Si chiama Cashback Card e si tratta di una tessera fedeltà che invece di far accumulare punti, dà l'opportunità di fare acquisti con ritorno immediato di denaro dall'1 al 5% della spesa fatta. Arriva in città questo innovativo circuito che farà tappa ad Arezzo Fiere Congressi domenica 3 aprile dalle 10 alle 19 per la fiera Lioness Expo. All'interno del padiglione sporranno oltre 50 commercianti aretini che porteranno ogni tipo di prodotto merceologico. Nasce in Austria nel 2003, quindi sono ormai molti anni, è ormai presente in 47 paesi, quindi è un circuito internazionale. È dal 2009 in Italia, con sede a Verona, e dal 2013 in Arezzo, abbiamo già superato gli oltre 3.000 clienti che hanno in mano una card con la quale fanno acquisti. Tutti i giorni mettiamo benzina o prendiamo, che ne so, il caffè al bar piuttosto che il ristorante. Ecco, su questi acquisti che facciamo riceviamo una parte di questi soldi indietro nel conto corrente. La televisione è gratuita, si può iscrivere tranquillamente sia domenica quando viene in fiera, oppure uno si può registrare tranquillamente su internet, va sul sito www.lainess.com e si registra. Ad Arezzo Fiere Congressi non solamente acquisti, ma anche divertimento, intrattenimento ed ovviamente solidarietà. Per l'intera giornata, infatti, sarà possibile partecipare a una lotteria di beneficenza per raccogliere fondi da destinare all'associazione Child and Family Foundation. Sarà allestito un palco con varie dimostrazioni anche di aziende partecipanti. Ci sarà un'area dedicata al workshop in modo tale che le persone possano anche informarsi su cos'è il circuito, come funziona sia l'auto client che ovviamente aziende. Ci sarà anche, ultimo ma non per questo meno importante, una bellissima lotteria pro Child and Family Foundation, una fondazione legata strettamente alla realtà Lioness.